Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il nome di Allah, il Clemente e il Misericordioso. Cari ascoltatori, il nostro sermone oggi porta il titolo e il merito dei martiri presso il loro Signore Allah. Ma prima di tutto l'ode ad Allah, Signore dell'universo che dice nel nobile Corano, non pensare che coloro che sono stati uccisi sulla via di Allah siano morti, al contrario, sono vivi con il loro Signore, ben dotati e giosi del favore che Allah ha concesso loro. E' felice che coloro che sono rimasti dietro di loro sono e non si sono ancora uniti, a loro non conoscano paura e non lo faranno essere addolorato. Sono deliziati da una benedizione di Allah e da un favore e che Allah non permetta ai credenti di perdere la loro ricompensa. E' testimonio che non c'è Dio all'uomo di Allah, l'unico senza alcun associato, e che il nostro maestro Muhammad e il suo messaggero è inviato. O Allah, dona la tua benedizione e salvezza a lui, alla sua famiglia, ai suoi combani e a coloro che tutti li seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno. Cari ascoltatori, infatti il martirio nel sentiero di Allah, gloria a lui, è uno dei gradi più supplimi tra gli atti che avvicinano ad Allah. Allah, gloria a lui, in questo riguardo legge eroi che sacrificano anime per la salvezza del vero e difenderlo con la volontà per salvare la patria e mantenere i suoi cittadini e territori in bacia. Allah, gloria a lui, dice affinché Allah riconosca coloro che hanno creduto e scelga tra voi i martiri. Inoltre Allah, e li sia esaltato, conferisce ai martiri gradi sublime, grandi vertù e solitari titoli onerifici. Prova di ciò è il detto del profeta, bacio per il sonno dell'altro di lui, dicendo, oppure quando ha detto, «Giuro su colui che detiene la mia anima vorrei essere ucciso sulla via di Allah, quindi risorto, poi ucciso, poi risorto, poi ucciso, poi risolto». Parte del grado sublime dei martiri che sono vivi con il loro Signore, una vita che supera di gran lunga quella degli umani, Allah, gloria a lui, dice, «E non chiamare morto colui che è stato ucciso sulla via di Allah, piuttosto questi sono vivi, mentre non ve ne rendete conto». Jabber ibn Abdullah, che Allah sia soddisfatto di lui e di sua madre, ha detto, «E il profeta Muhammad, bacio per il sonno dell'altro di lui, mi ha incontrato e ha detto, «Perché sei rattristato?». Ho risposto, «O messaggero di Allah, mio padre si è martirizzato, lasciandomi fili e debiti». E il profeta rispose, «Non vuoi che ti informi su ciò che Allah ha preparato per tuo padre?». Naturalmente ho risposto, «O messaggero di Allah». E poi, come vediamo, il profeta disse, «Allah non parla a nessuno se non dietro un velo, eppure ha parlato a tuo padre senza velo dopo averlo sollevato. Gli disse, «O mio servo, dimmi i tuoi desideri, te lo do». Tuo padre dice, «Desiderio, desidero, e il mio signore che tu mi porti, riporti in vita per essere ucciso ancora una volta sul tuo sentiero». Allah rispose, «E' scritto nella mia oniscenza che non tornerai in vita». Così è stato rivelato questo versetto. Non pensare che coloro che sono ucciso sulla via di Allah siano morti. Al contrario, sono vivi con il loro signore. Del loro signore vagano tranquilli in paradiso. Il profeta Muhammad, bacio per il signore dell'asso di lui, disse, «Quando i tuoi fratelli furono uccisi nella battaglia di Ohod, Allah mese i loro spiriti nelle vecchie degli uccelli che volano ai fiumi del paradiso. Dei suoi frutti ne mangiano. Poi questi uccelli si rifugiano nel madiglione d'oro appesi al tetto del trono. I martiri riceveranno un'immensa ricompensa e un'ampia luce nell'ultimo giorno. Allah, gloria a lui, dice, «E con il loro signore i martiri avranno la loro ricompensa e la loro luce». E il profeta Muhammad ancora disse alla madre di Harissa ibn Surakka che Allah sia soddisfatto di lui e di suo padre, quando le chiese del destino di suo figlio martirizzato nella battaglia di Badre, «Oh, oh, Muharissa, lui si tratta di diversi giardini. Tuo figlio è nel paradiso sublime. I martiri intercederanno per le loro famiglie e nell'ultimo giorno Allah premia le loro famiglie per averli ben educati e addistrati. Il profeta ci informa che il martire intercede a favore di 70 membri della sua famiglia. Le loro ricompense sono in ente rotte e da raddobbiare, e il profeta Muhammad dice, «L'opera di tutti i morti è chiusa eccetto quella di ciò che rimane nel sentire di Allah». Allah sviluppa l'opera per lui fino all'ultimo giorno ed è al riparo dal tormento della tomba. Ritorniamo, cari ascoltatori, un'altra volta al nostro discorso riguardante il merito dei martiri. Ma, prima di tutto, all'oda ad Allah, Signore dell'universo, che la salvezza e le previsioni di Allah siano sull'ultimo dei profeti e messaggeri, il nostro maestro Muhammad baci e previsioni dall'altro di lui e la sua famiglia e tutti i suoi compagni. Certo, il grado del martirio è merito del vero martire che conosce il vero, lì è fedele, lo difende e per esso si sacrifica. Il vero martire è colui che viene ucciso in difesa del suo suolo, del suo onore, della sua patria e della sua sicurezza e salvezza dei suoi cittadini. E il profeta Muhammad in questo riguardo dice chi è ucciso mentre difendeva la sua proprietà è un martire, chi è ucciso mentre difendeva sua moglie e il suo impegno o la sua religione è un martire. Affermiamo che la fedeltà alle anime dei nostri martiri ci richiede di essere soldati di questa grande patria, ciascuno nel proprio dominio e con il massimo dei suoi sforzi dobbiamo quindi schierarci tutti a avere il coraggio di un solo uomo dietro il nostro esercito. La nostra polizia e tutti gli organismi nazionali sperando da Allah nella ricompensa del martirio. Il profeta Muhammad disse chiunque implora sinceramente il martirio Allah gli concede il grado del martirio anche se muore sul suo letto. Infine O Allah Signore del mondo preserva l'Egitto il nostro paese e tutti i paesi del mondo. Grazie dell'ascolto.